Dottore Jacopo Vignaroli, General Manager della Scuola Basket Arezzo, una bella prestazione questa della Rezzo, della Scuola Basket Arezzo, una prestazione che se fosse stata la formazione della Scuola Basket Arezzo al completo sin dall'inizio chiaramente non c'era pane per nessuna delle tre squadre. Grazie per la fiducia ma non dottore, un misero ragioniere, perdonami Carlo. E poi dopo lì che è vero che la prima partita avevamo delle assenze noi ma fa parte del gioco, io sono sempre personalmente abituato a valutare le cose per i giocatori che sono a disposizione, infortuni e assenze fanno parte del gioco, una volta capitano a noi e una volta agli altri, infatti stasera Colle credo fosse priva, poi lo potrà confermare l'allenatore di Colle Mario Pacini, il nostro allenatore di un anno fa, ma fosse priva di Moroni che tra l'altro è un ex sba ai tempi della Serie B, quindi è un giocatore importante, sicuramente questo, dico che il risultato è diciamo doppato da questa assenza, però un po' il compito ce l'ha agevolato, però io ho visto una squadra che deve, parlo della nostra, che all'inizio un po' ha stentato difensivamente, 27 punti nel primo quarto oggettivamente sono veramente troppi, insomma se uno fa la proporzione nei quattro tempi si supera abbondantemente i 100 punti, però una volta che è stata registrata la fase difensiva, se non erro hanno finito 56, quindi questo vuol dire che nei restanti tre quarti, nei restanti 30 minuti hanno segnato 29 punti e basta, quindi in tre tempi hanno segnato quello che hanno segnato in un quarto, quindi la difesa è un fattore importante, sicuramente il coach ancora deve lavorare nell'amalgamare comunque tutta la truppa perché ci sono i due nuovi arrivati, sicuramente ancora il processo di iniziamento è in itinere, è ben lungi dall'arrivare al suo termine, ma d'altra parte siamo all'inizio stagione e questa coppa, al di là che ci sono i due punti in paglia, fa sempre piacere vincere, però serve anche per testare il livello del lavoro a cui siamo arrivati, cosa c'è da fare per migliorare, ancora mancano due settimane per l'inizio del campionato e poi insomma credo che partire bene è importante sicuramente, ma le stagioni da come uno parte prendono una certa piega, però poi si decidono come dicono tutti in primavera, nella seconda parte della stagione, quindi ripeto, è bene che ci sia del lavoro da fare, però mi sembra che tutti siano orientati verso lo stesso obiettivo, c'è da registrare alcune cose come normale che sia, però insomma per adesso stiamo non tanto nei risultati, ma nel lavoro che il coach e lo staff e la scuola stanno facendo, stiamo rispettando il ruolino di marcia, al netto ripeto, delle cose buone e delle cose su cui bisogna lavorare.